Il 2 febbraio venerdì, buongiorno e benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione in regia Giovanni Petrone. Prima edizione del Tg che apriamo con la giudiziaria è confermata in appello la pena per una delle due maestre della scuola dell'infanzia di Cerce Maggiore. La donna, originaria della provincia di Benevento, è stata condannata per maltrattamenti a un anno e quattro mesi, come era avvenuto nel processo di primo grado, il servizio di Tonino Danese. Un anno e quattro mesi la condanna, la stessa del primo grado, pena dunque confermata in appello per una delle due maestre della provincia di Benevento accusate di maltrattamenti aggravati nei confronti di alcuni bambini della scuola dell'infanzia di Cerce Maggiore. L'insegnante, condannata anche in secondo grado, aveva scelto il rito abbreviato. Per l'altra, che ha optato per il rito ordinario, il primo processo è ancora in corso. I fatti contestati accaduti tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. A denunciarli alcuni genitori insospettiti dell'atteggiamento dei figli, i maltrattamenti, come emerso dalle indagini dei carabinieri, furono filmati dai militari dell'arma con delle telecamere nascoste nell'aula della scuola. A leggere la sentenza di appello in tribunale a Campobasso è stato il presidente Vincenzo Pupilella. La richiesta del procuratore generale Antonio Larana ha quella di confermare la pena di un anno e quattro mesi. Lo stesso hanno fatto le parti civili, gli avvocati Giuseppe Fazio, Luigi Coscia, Valeria Zappone e Michele Robustini, che rappresentano i genitori di alcuni bambini. Soddisfatto della decisione della corte, ha detto Fazio. La maestra condannata in appello è difesa dal legale Roberto D'Aloisio, che nella sua arringa ha chiesto ancora la derubricazione in un reato meno afflittivo. La detenzione era già stata scongiurata in primo grado. Ora attendiamo le motivazioni, ha commentato l'avvocato. Nel dibattito politico che si è acceso intorno al destino dell'ex Roxy di Campobasso è intervenuto il capogruppo di Forza Italia a Palazzo San Giorgio, Domenico Esposito. La base d'asta di 6 milioni è congrua e non c'è pericolo che l'area venga stravolta. Inoltre il progetto originario si può modificare. La regione molise non ha più bisogno di 13 mila metri quadri per realizzare i suoi uffici. Si salva anche l'area verde, ha detto Esposito. Ce ne parla Marta Martino. Dopo 20 anni che si discute del suo destino, il palazzo dell'ex Roxy a Campobasso è ancora là, sempre più fatiscente e brutto e neanche più tanto sicuro da un punto di vista strutturale. L'edificio che la regione molise aveva acquistato 20 anni fa per farne la sede dei suoi uffici ora è stato ufficialmente messo in vendita con una base d'asta di circa 6 milioni di euro. Motivo? Le esigenze negli anni sono cambiate e nella vita tutti possono cambiare idea. Pure la regione molise che allo stato attuale non ha più bisogno di realizzare una base logistica su un'area così vasta. A ricordarlo è il capogruppo di Forza Italia al comune di Campobasso, Domenico Esposito. Questa è una scelta dell'ente regione molise che immagino che in 20 anni si siano modificate le esigenze che aveva nel 2010 quando è stato acquistato lo stabile. L'esigenza dei cittadini campobassani invece è sempre la stessa. Quella di vedere riqualificata quell'area. E io oggettivamente, al di là che è la mia parte politica, ma riconosco nel Presidente Roberti un'azione immediata, tempestiva, di tentare di risolvere un'annosa questione a beneficio della città ma non solo del Molise tutto. Sulla questione si è riacceso il dibattito politico. Ultimo in ordine di tempo il candidato sindaco Pino Ruta per costruire democrazia che ha sollevato il timore che non fissando dei vincoli. L'area possa finire nelle mani di un palazzinaro e stravolgere l'aspetto dell'area. Secondo Esposito il pericolo non c'è. Io ho letto le carte e ho letto con attenzione il documento istruttorio che la regione molise ha prodotto a beneficio di questa iniziativa. Nel 2010 poco meno di 6 milioni di euro è stato il prezzo d'acquisto dell'ex Roxy. È stata fatta una valutazione con dati OMI attraverso parametri dell'Agenzia delle Entrate che hanno raccontato che l'edificio ancora oggi ha lo stesso valore al di là del decadimento che c'è stato in questi 20 anni. Però immagino che chiunque lo dovesse comprare lo dovrà demolire e immagino che anche quei costi siano elevatissimi. Allora quando sento dire di spereguazione oppure di palazzinari che vogliono lì realizzare chissà quali interessi mi chiedo e mi domando chi è il folle che parte con meno 7 milioni di euro e a realizzare un'opera quanti appartamenti dovrebbe realizzare un grattacielo di 70 piani per fare economia su quella operazione. Il progetto originario prevedeva la necessità di uno spazio di 13 mila metri quadrati. Oggi ne servirebbero 8 mila dice Esposito e quindi si potrebbe anche salvare l'area verde e realizzare il parcheggio sotterraneo di cui la città ha bisogno ma dice resta fondamentale che tutta l'amministrazione comunale lavori compatta per il bene comune della città e dei cittadini. Per questo credo che dovremmo lavorare parlando una sola lingua all'unisono la città di Campobasso e il governo regionale e perché no viste le tante risorse che stanno arrivando per la prima volta e anche l'ultima alla nostra città dovute al PNRR non dobbiamo perdere questa opportunità. Torna questa sera alle 21 l'appuntamento con la trasmissione ingresso libero. La puntata sarà dedicata ai 60 anni dell'istituzione della regione molise. Ospiti in studio di Pasquale Di Bello saranno il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, Antonio D'Ambrosio ex presidente del Consiglio regionale e il giornalista Pasquale Passarelli. Nel corso della trasmissione verranno proposte le interviste realizzate col presidente della regione Francesco Roberti, con l'ex presidente della regione Enrico Santoro e con il senatore Costanzo della Porta, relatore del progetto sull'autonomia differenziata. Con questo appuntamento nel nostro palinsesto ci fermiamo. Adesso uno sguardo ai quotidiani locali e nazionali. Siamo sul giornale del Molise, ci sono diversi argomenti in evidenza. Questa notizia di cronaca, arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio a Termoli. Parla anche dei maltrattamenti nell'asilo di Cerce Maggiore, maestra condannata anche in appello a un anno e 4 mesi. L'IRPEF al 3,3% sopra i 28 mila euro per redditi, sopra i 28 mila euro, cioè il via libera da parte del Consiglio dei Ministri. Vediamo anche qualche altra notizia. Ex Unilever, il 6 febbraio i lavoratori saranno davanti al Consiglio regionale. E ancora Automotive, palombella Ficco della Wilm, bene incentivi all'elettrico, ma i lavoratori di Stellantis e dell'Indotto attendono risposte. A proposito di Stellantis ci sono diversi argomenti anche sui quotidiani nazionali. Passiamo su Anza Molise, c'è l'incidente in primo piano, l'incidente stradale grave, che si è verificato a Macchiagode, ma poi si parla anche di un'abitazione confiscata alle mafie a Campobasso che sarà alloggio sociale. L'inaugurazione dell'anno accademico all'università, ci sarà padre Paolo Bonsanti all'inaugurazione. Più in basso si parla anche, c'è un intervento da parte del Rettore dell'Unimo sulla carenza infermieri, ha detto il vertice dell'Ateneo, bisogna adeguare le retribuzioni. Dal web alla carta stampata con primo piano l'autonomia incentiverà il buon governo dei territori. Parla Salvini, oggi a Pozzilli, per ufficializzare l'ingresso di Patriciello nella Lega. Alle europee liste forti e competitive, con Aldo sempre più radicati nel centro-sud. Tanto il parlamentare molisano spiega le ragioni della scelta. Classe dirigente fatta di amministratori capaci e pragmatici. E altri titoli? Fare del Santimoteo un'eccellenza. Di Santo, il direttore generale dell'ASREM, sfida difficile ma non è impossibile. I vertici dell'azienda sanitaria in riva all'Adriatico. Summit con il personale per fissare i primi obiettivi, cioè abbattere la mobilità passiva e realizzare un attento controllo di gestione. A fondo pagina questo annuncio. Ferrovia, da domenica, partono dalla stazione di Sernia i primi treni elettrici per Napoli e Roma. Alcuni richiami a centro pagina, si parla dei ricorsi K.O. sulle regionali, pure il Consiglio di Stato conferma l'esito delle urne. A Pozzilli adesso Unilever, sindacati contro Invitalia, a martedì la protesta davanti al Consiglio regionale. Da Termoli invece Stellantis, parla Tavares che bussa denari, il ministro Urso pronti a discutere, diciamo che questo argomento è anche sui quotidiani nazionali. Di spalla, macchia godena, auto finisce fuoristrada e cappotta, perde la vita, l'86enne alla guida. Da Cerce Maggiore invece, nella notizia di giudiziaria, maltrattamenti, una delle due maestre condannata anche dalla Corte d'Appello. Umberto Berardo firma il punto, la rubrica il punto, l'umanità di fronte agli scenari di guerra. Andiamo a vedere i titoli di sport. Campobasso, ingaggiato, il terzino destro Parisi, Mengani ceduto all'Aquila. Casa Termoli, Carnevale dice ottima partita contro il Roma City, ora sotto con il Fano. Infine da Vasto Girardi, impegno arduo a San Benedetto, Crudere dice ce la giocheremo. Passiamo ai quotidiani nazionali, qui c'è la questione dei finanziamenti all'Ucraina, ma anche la protesta degli agricoltori in tutta Europa. Iniziamo con il Corriere della Sera, aiuti all'Ucraina, Orbán vota sì. Fondi per 50 miliardi, il leader ungherese, dopo le urne aderiremo al gruppo di Fratelli d'Italia. Sui trattori a Bruxelles interviene Von der Leyen. Intanto Europa compatta, c'è la mediazione di Meloni, i colloqui con Budapest sul caso Salis, è stato chiesto rispetto. E a proposito di questa ragazza, l'aria, il piano delle garanzie per i domiciliari in Italia, queste le mosse dei legali del guardasigilli. A centropagina Stellantis, a rischio gli impianti italiani, il ministro Urso, entri lo Stato. Tanto sull'auto, l'attacco di Sline al governo. Poi questa foto, Hamilton, Ferrari, un colpo mondiale, sarà sulla rossa dal 2025. Lo vedremo anche sulla Gazzetta dello Sport che gli dedica quasi tutta l'intera pagina. La Repubblica, la marcia dei trattori. Gli agricoltori mettono a ferro e fuoco Bruxelles per protestare contro il Green Deal. Il grano di Kiev è lo stop ai pesticidi. Von der Leyen apre ai manifestanti e promette di aiutare il settore. I leader europei favorevoli a un consiglio straordinario. Intanto Orban piega la testa e dà il via libera a 50 miliardi di aiuti all'Ucraina. Vediamo anche qui, in questa grande foto, un'immagine delle proteste degli agricoltori in Belgio. Più in basso il caso Ilaria Salis, Meloni. Molti Stati usano le catene. Si tratta intanto per i domiciliari in Italia. A venire l'Europa si ricompatta. Anche qui la politica estera in primo piano. I partner europei convincono l'Ungheria, intesa sul nuovo bilancio comunitario con i 50 miliardi per l'Ucraina. Esulta Zelensky. Budapest ottiene in cambio uno sconto sui fondi comunitari bloccati per il mancato rispetto dello Stato di diritto. Tanto Meloni, mediatrice con Orban sul tavolo. C'è il caso Salis e anche l'ipotesi di un ingresso nelle file dei conservatori. Italia più povera e sprecona nel bidone. 13 miliardi di cibo. Crescono dell'8% gli avanzi che finiscono in pattumiera. In ginocchio da Elkan titola così il fatto quotidiano e si parla di Stellantis, Tavares minaccia tagli, Urso regala un miliardo. E poi scrive il quotidiano di Travaglio. Avevano scherzato. Ricattato con gli esuberi, il governo offre incentivi su misura e una quota pubblica. Intanto la Ferrari si prende Hamilton. Sotto la testata, proteste intese, l'Unione Europea litiga sugli agricoltori e dà altri 50 miliardi a Kiev. Me ne frego. Frase famosa, affermazione famosa. Così il manifesto in apertura. Vedete la foto dei Meloni e Orban. Ilaria Salis in catene. Accade in vari paesi, anche occidentali. Meloni difende Orban e rinsalda l'asse sovranista. Il premier ungherese intanto rivela, dopo le europee, pronto a entrare nel gruppo dei conservatori, quello della leader italiana. L'Ungheria si arrende a Kiev 50 miliardi. Il Consiglio europeo ci sono volute due ore di prevertice per piegare Budapest. Abbiamo visto dunque che questi sono gli argomenti principali sulla stampa nazionale. Andiamo a vedere il messaggero che, titolo dell'apertura, fondi a Kiev, accordo in Europa. In alto c'è quest'altra notizia. Bonus mamme fino a 3.000 euro a chi lavora. Arriva dunque la circolare. Subito 500 euro per chi ha due figli. Di taglio centrale, il tema sulla cecchettin, ricorderete questa ragazza, fa scoprire uno stupro. La professoressa salva l'allieva. Il caso a Latina, denunciato l'ex fidanzato. Nel componimento, descritti violenze e soprusi. Foto notizia, trattori in rivolta, assalto a Bruxelles, protesta contro l'Unione europea, è stata anche abbattuta e bruciata una statua. Il secolo d'Italia, Meloni protagonista in Europa, vedete la foto con Orban, mentre fondo pagina, non solo Ilaria Salis, Filippo Mosca detenuto in Romania, dunque si parla di un altro italiano detenuto, in questo caso in Romania. Poi il secolo si occupa di premierato, la maggioranza d'accordo sulle modifiche. Proseguiamo con la stampa, la rabbia dei trattori, guerriglia a Bruxelles, il Parlamento sotto assedio, roghi, scontri e una statua di velta. I leader dicono, adesso dobbiamo ascoltarli. Poi si parla anche della lezione di Sinner, ieri ho incontrato il presidente Mattarella, e quei pericoli social che noi genitori abbiamo ignorato. Italia e Francia convincono Orban, il premier ungherese, alla stampa, dunque in intervista alla stampa, tuteleremo Salis. Dopo le europee entro nei conservatori. Il baronetto rampante, Leclerc e Hamilton, vedete qui, Hamilton insegnato dalla regina alla Ferrari dal 2025. Passiamo al libero. Elkan sfida l'Italia, poi scrive I prenditori. Arriva un miliardo di incentivi per l'auto, ma Stellantis ha ancora appetito. Senza aiuti per l'elettrico, gli impianti restano al rischio e il governo apre ad una partecipazione statale. Grande foto, la campagna della sinistra per la Salis de Genera, già santificata. Ilaria d'Ungheria, era stata definita anche Giovanna d'Arco. Chiudiamo, libero, passiamo al quotidiano economico, il sole 24 ore, recuperabile l'8% delle tasse non pagate, parla Leo, dal concordato, i fondi per l'IRPEF. Poi la riforma parte dai professionisti, la 33esima edizione del convegno, si parla dunque di questo argomento, è in basso, inflazione, rimbalzo a sorpresa, più 0,8%. Dicevamo di Hamilton alla Ferrari dal 2025, dicevamo che la gazzetta li dedica gran parte della prima, colpo rosso, dunque, titola così, clamoroso, nasce il team dei sogni, 80 milioni all'anno per due superpiloti, il 7 volte iridato, chiuderà a Maranello, Hamilton nel prossimo anno, compirà 40 anni. Bene, come sempre con la gazzetta dello sport termina l'appuntamento, il primo con la nostra informazione alle 14, vi ricordo la seconda edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito, buona giornata. Reci.